Uno schiaffo alle forze sociali abruzzesi, quello di questa maggioranza, che respingono la mozione delle opposizioni, che non faceva altro che raccogliere l'appello delle forze datoriali di categorie sindacali che chiedevano al governo regionale e alla regione Abruzzo di portare avanti con forza la politica per aprire, chiedere l'apertura del corridoio della trasversalità per movimentare merci, passeggeri, ovviamente turismo, per aprire nuovi fronti per la nostra economia. Ed era coerente ed è coerente per quanto ci riguarda il passaggio e il trasferimento dei nostri porti all'autorità portuale di Civitavecchia, con la quale ci potremmo integrare molto meglio aprendo nuovi canali di sviluppo. Bisogna difendere il nostro settore produttivo. Quello che c'è è diversificarlo in futuro, utilizzando delle risorse straordinarie, più uniche che rare, che probabilmente non torneranno più, cioè quelle che l'Europa ha messo a disposizione. Il governo regionale oggi dà uno schiaffo all'Abruzzo e alle forze sociali tutte e dichiara purtroppo di non credere fino in fondo a quello che invece può essere un grande traguardo e soprattutto oggi è una grande sfida per tutta la nostra regione.